Grazie a tutti 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 La fotografia come sappiamo tutti è sicuramente un modo per interpretare e analizzare la realtà e ci permette anche di scatturare e di fermare le immagini che altrimenti andrebbe per tutte l'arte invece che è un linguaggio molto più antico comunque ha sempre rappresentato la realtà attraverso le linee, attraverso segni e attraverso anche supporti dimensionali come potrebbero essere, credo come sono quindi l'indagine del reale e quindi l'indagine del reale è sempre il punto di partenza di un percorso artistico, di un cammino di costruzione artistica e sicuramente questi due autori hanno solo comunque partiti dall'indagine del reale per poi trasformare lo stesso in un modo molto personale e particolarmente è particolarmente suggestivo come già potete osservare. I progetti sono molecole, proteine, cellule che vengono osservate e riprodotte nella loro composizione, nella loro struttura infinitesimale e vengono quindi trasfigurati per cui dal visibile e dal dato oggettivo c'è altro e si va oltre. I micro-organismi esaminati dalla nostra architrice si trasformano in filamenti cromatici, in vortici colorati, epidurali e accesi e dal punto di vista artistico la sua pittura ci avvicina di un linguaggio astratto, tra virgolette, mentre dal punto di vista emotivo ci porta in una dimensione unica, in una dimensione surreale, in una dimensione altra, sicuramente di grande suggestione e ci permette così anche di provare interesse e comprendere anche la bellezza degli aspetti della natura. La fotografia di Giuseppe Locurcio invece, come si vede, è un grande impatto visivo. Pensiamo ad esempio alle costruzioni in titanio, alle costruzioni in acciaio, che manifestano proprio questa urgenza comunitaria, tipica dell'arte informale e anche della fotografia informale. Sicuramente nella sua fotografia c'è, anche come nella pittura di Sara Lori, l'indagine e l'appartuto di partenza, che è il dato reale, il dato sensibile e il vero. A volte questo dato reale, questo dato sensibile, rimane tale, si ferma, si dilotta, come per esempio nella rimessa di Locurcio a vapore, è stato uno stato antico, uno stato che ha fermato il tempo, invece altre volte, nella maggior parte delle opere di Locurcio, troviamo questo contrasto tra chiaro-oscuro, bianco-nero, che diciamo così, frammenta l'immagine, il dato sensibile e il dato oggettivo, per andare oltre e per creare altro. Particularmente importanti sono per esempio le sue architetture, che ci catapultano in queste dimensioni metafisiche, in queste dimensioni anche tecnologiche, di grande efficacia. L'aspetto particolare comunque di questa mostra è che i due artisti hanno esposto le loro opere cercando, diciamo così, lasciando a voi una molteplicità di interpretazioni, però quello che si può subito notare è che il confine tra pittura e fotografia risulta essere abbastanza labile. Ognuno di noi chiaramente interpreta ciò che vede in base alle proprie emozioni, alle proprie sensazioni, anche di tipo visivo, però è sicuramente chiaro a tutti noi come ci possano essere analogie e l'affinità tra le opere di due artisti. Ci chiamo ad esempio la bellissima Queen di moltitudine silenziosa di Sara Rori che produce questa miriade di donne viste di spalle che rappresentano poi alla fine un unico corpo in una fissità quasi geometrica, in questa moltitudine quasi fluisce nelle architetture parallele di rilogurcio il cui bianco e nero crea un'idea sia di fissità che anche di dinamismo nello stesso tempo. E' altrettanto interessante per esempio queste linee vorticose di Nante, delle protuberanze di Sara Rori che si avvicinano molto al movimento e al dinamismo dell'affronto dell'architettura non-minile di Dotticcio creando appunto una particolare emozione, un particolare battolistico. Quindi ciò che è importante considerare è che questo progetto che fonda queste due tecniche spesside crea sicuramente storia, crea sicuramente bellezza e ci avvicina a questi mondi, espressi di grande impatto e di grande intensità. Ora lascio la parola al mondo, grazie. Sono Sara Rori, sono una etis maestra elementare e ho lasciato per anni la parte della pittura che avevo coltivato quando vivevo a Milano frequentando anche la scuola d'arte, ha messo al castello sportesco, una scuola prestigiosa perché l'ha frequentata Carlo Cantano. Quindi diciamo, ci ho lavorato sulla mia pittura, non sono proprio così improvvisata. Però come succede nella vita, la famiglia assorbe molto tempo e le donne non hanno la possibilità di coltivare gli ovvi come vorrebbero. Adesso sono in pensione, ho ripreso a dipingere e diciamo che non sono più soddisfatta dalla pittura tradizionale e vado alla ricerca di qualcosa di diverso. In genere mi attira tutto ciò che è al confine, quello che è la linea che separa il reale dall'irreale. Parto da un particolare reale e lo trasformo in una pittura, in un quadro astratto. Lì riesco a liberarmi da tutte le tensioni, riesco ad estranearmi, mi sento soddisfatta. E' lì che creo il mio piccolo mondo, il mio rifugio, la mia bolla d'aria, quella che mi permette di combattere anche la monotonia della vita di tutti i giorni. E questo è tutto. Ho trovato in Giuseppe, ahimè, una corrispondenza, lo stesso modo di pensare o di vedere la realtà, tant'è vero che ci sono dei quadri che sembrano addirittura fatti contemporaneamente, ma se vedete le date sono fatti momenti assolutamente diversi. Io ispirata da una cosa e lui da un'altra, però poi ci siamo ritrovati. Ed è stato il bello di questa nostra collaborazione, è stata proprio la sorpresa, la sorpresa di trovare delle analogie, cosa rara, perché l'artista di solito è solo, non deve percorrere la strada per conto suo. E ripeto, il mio essere astratto non è astratto, perché parte sempre dalla realtà, del resto noi, esseri umani, non creiamo nulla, ma rielaboriamo quello che la natura offre al nostro sguardo. Io la penso così. Grazie. Curcio Santagatese, papà e mamma sono di Santagata, quindi la prima cosa che devo fare è ringraziare il Comune, il Sindaco, tutti gli assessori che mi hanno dato una mano, mi hanno dato la possibilità di poter esporre fotografie, comprese i quadri di Saraguri, in questa bella location, che veramente porta qualche emozione in più rispetto alla visione di un quadro ormai, in un'altra volta. Dopo aver ringraziato tutti, ringraziamo anche la professoressa e Sara, che mi supporta e mi sopporta a volte nell'abbinamento dei quadri che abbiamo fatto con le fotografie e siamo contenti di questo, perché nella prima volta che abbiamo esposto a Foggia, a novembre dell'anno scorso, abbiamo avuto una grande partecipazione, una grande serata con tante persone, con tanti artisti e qui abbiamo anche Franco Marotti che era qui presente. Siamo rimasti meravigliati da come abbiamo trovato, io dei negativi, tra virgolette negativi, ormai sono dei file, in un archivio e li abbiamo messi vicino a dei quadri fatti ma tanti anni prima. Abbiamo trovato queste linee, queste curve, questi movimenti strani, perché io così li chiamo, movimenti strani, perché mi voglia piangiare un pochettino a quello che diceva Sara, che gli artisti sono soli, io mi chiamo gruppo solitario perché per fotografare esco da solo, altrimenti non riesco a fotografare, ma siamo così, da qui siamo strani tutti quanti. Quindi non voglio dilungarmi perché poi divento un pochettino logoroico e quindi voglio dare diciamo la voce, se nemmeno poi rimettete, ai quadri. Ringrazio tutti di essere qui presenti e questa volta faccio io un applauso. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, gli assessori che ci hanno dato la mano. Va bene, e adesso voi... Sentiremo, saremo accompagnati da una serata con i tre nostri grandi artisti. Musica di la scena, davvero per tutti voi, giusto? Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Pasquale Rialdi, si vede che sono flottista, credo. Presento anche i miei collaboratori, collaboratori della Camerata Musica Antigua, Antonella Balisia, la viola variante. Non chiamate la viola ocello, è una viola variante. Mauro Del Grosso, aiuto. Non chiamate la chitarra, è un liuto. Bene, farmo un percorso musicale tra il 500 e il 600 in omaggio a questo ruolo splendido. Anch'io sono santagatese, vivo di Ginevito, da mia famiglia, sia da parte paterna che materna, siamo tutti di Santagatiglia. Probabilmente, un fatto delle indagini, forse sono discendente del brigante, sia da parte paterna. Sì, sì. E sono molto fiero e orgoglio di questi. Cominceremo con delle... Il programma sarà per Geranto, su danze, brani amorosi, tra il Rinascimento e il Farocco, così come sia l'età, i signori dell'epoca. Solo un particolare, mi piace il titolo della vostra, è visibile oltre. Potremmo anche dire il sonoro oltre. Oppure lasciare anche il visibile oltre. Potremmo metterci qualsiasi altra forma artistica, espressiva, tra cui anche la musica o la poesia, o la letteratura, in genere, qualsiasi altra forma artistica. L'oltre io lo vedo come qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio. Perché utilizzare pochi elementi, elementi semplici della natura e rielaborarli o in chiave moderna o prendendo forme antiche e riproporli ai giorni nostri, significa comunque essere, vivere e far vivere quella che è la nostra dimensione naturale. E poi ognuno di noi può leggere il visibile o l'audibile in maniera diversa e quindi dare il significato di un conto. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.